La professoressa Giovanna Cosenza è un'esperta di comunicazione, insegna semiotica all'Università di Bologna, ha due blog e affronta un tema cruciale parlando di bellezza, cioè il tema dello sguardo. Tante volte accade che gli occhi con i quali ci guardiamo non sono i nostri, è così? È così perché i nostri occhi sono condizionati dagli occhi della comunicazione di massa che propone ogni giorno attraverso i suoi tanti mezzi che vanno dal cinema alla pubblicità ai videogiochi, anche a tutti i giocattoli e i gadget che vengono prodotti a lattere delle produzioni cinematografiche, televisive, la televisione naturalmente. Cosa fa la comunicazione di massa? Ci impone un certo sguardo sulla bellezza e un certo modello ideale di corpo per uomini, donne, bambini, bambine, persone adulte, anziani e anziane. E questo modello massificato e omologato e idealizzato è sempre più astratto e noi ci guardiamo e inevitabilmente ci troviamo distanti da questo corpo unico, astratto e lontano da quelli che sono i nostri corpi reali. In che senso è astratto la visione del corpo? In un senso proprio letterale. Una volta era astratto perché usavano i filtri, le luci, un certo modo di impostare un set. Adesso è astratto perché c'è il digitale e qui c'è il fotoritocco. E il fotoritocco c'è sempre, anche quando non sembra che ci sia, ma i ragazzini e le ragazzine lo sanno perché usano il fotoritocco su Instagram, su Facebook, su tutti i selfie che una dodicenne si fa, sono già molto consapevoli di queste possibilità di fotoritoccarsi. Il problema è che non ci si guarda più, non si vede più la realtà come realtà è e quindi si fisce per dover cancellare qualcosa che non è un'imperfezione, è semplicemente la propria pelle. Non si possono cancellare i pori, i pori esistono e esistono anche quando sono perfetti. Il problema è che adesso si cancellano anche pori che non sono pieni di punti neri o di brufoli per intenderci. Non va bene vedere proprio la naturalità della grana della nostra pelle, per dire una cosa. Torniamo appunto sui giovani, sui ragazzi di oggi. Lei ne incontra centinaia e centinaia ogni anno. Che differenza c'è tra i ventenni di oggi e i ventenni di vent'anni fa? Sul loro corpo? Sul loro corpo, sulla rappresentazione che hanno di sé e anche del mondo. Ci sono dettagli inequivocabili, per esempio le sopracciglie. Una volta le sopracciglia non erano ritoccate quasi mai se non le ragazze, ma parlo di una volta dieci anni fa, mica chissà quanto tempo. Le ragazze magari fin da adolescenti si toglievano quei peluzzi in più. Adesso è quasi obbligatorio ritoccare le sopracciglia nel senso di addirittura ridisegnarle. E questo accade quando mi arrivano in aula a 19 anni, a 18 anni, sono già vecchi. Questo l'hanno già fatto a 14-15 anni. Conoscere un po' anche il mondo dei dodicenni, dei tredicenni fa capire che queste cose cominciano adesso. È un dettaglio che però è proprio sul volto di tutti. Grazie. Prego, grazie a voi, grazie a tutti.